Ancora una volta il PD Casertano non riesce a trovare la sintesi, si dimostra ancora non coeso, sul congresso provinciale sembrava tutto a posto, poi all'improvviso un brusco stop. Perché? Lo stop è evidentemente dovuto alla volontà politica di una parte di questo partito, che è rappresentata dalla candidata di Peppe, di non voler celebrare il congresso. Questo è dimostrato da tutte le uscite pubbliche e le dichiarazioni, le proposte fatte relativamente all'istruttore del congresso che vanno nella direzione di creare problemi per superare degli ostacoli tecnici e burocratici che la politica dovrebbe superare. Un esempio tra tutti è rappresentato dalla candidatura stessa di Peppe. Le liste che supportano la sua candidatura sono state consegnate senza i modelli di accettazione. È evidente che un'operazione del genere è fatta solo e esclusivamente per cercare di rallentare e cercare di porre dei problemi alla celebrazione del congresso. In ultimo, la proposta fatta dopo ripetute sollecitazioni da parte di organismi nazionali e regionali sulla definizione della data del congresso, che ha visto la parte del candidato Roseto proporre come data del congresso quella del 6 novembre. È evidente che la proposta è una proposta strumentale che tende a rompere un equilibrio, in quanto è impensabile, e io dico non solo proporla a una cosa del genere, ma soprattutto votarla. È impensabile pensare che il congresso provinciale del Partito Democratico, che fa della partecipazione uno dei suoi elementi più importanti, possa essere celebrato in un giorno lavorativo di mercoledì. Ed è ancora più impensabile e impraticabile, anche dal punto di vista organizzativo, pensare che dopo una giornata di votazione nei circoli per scegliere il candidato, il segretario provinciale, le stesse persone che sono state elette nell'assemblea provinciale si debbano riunire di lì e qualche ora per la proclamazione del segretario. È praticamente impossibile. Quindi questo, secondo lei, denota la chiara volontà dei sostenitori di Peppe Roseto non a rinviare il congresso, ma a non farlo proprio? Sì, è evidente, perché il problema non è la data. Né tantomeno c'è un percorso difficile e complicato che richiede una tempistica lunga. Il congresso provinciale, le platee del congresso provinciale, già sono state definite, sono state convalidate dagli organismi di garanzia. Bisogna soltanto accettare le liste, nominare i garanti e fare il congresso. Quindi la tempistica, nel momento in cui c'è una volontà politica a celebrare questo congresso, richiede effettivamente un paio di giorni. E anche le motivazioni che hanno spinto la Commissione a chiedere un rinvio della data fissata per il 27 dalla direzione provinciale, che è l'unico organismo che può definire una data, sono motivazioni banali, sono motivazioni che fanno intendere ancora una volta che c'è una volontà di non farlo il congresso. Io ricordo tra le quattro motivazioni che sono state portate all'attenzione della Commissione regionale e nazionale, la mancanza del responsabile di organizzazione. È evidente che un congresso, che dovrebbe vedere la partecipazione di 7-8 mila iscritti in provincia di Caserta, in un momento democratico di partecipazione, non può essere bloccato perché manca la figura responsabile dell'organizzazione. Lei prima parlava della richiesta che ha definito, in qualche modo politicamente indecente, da parte del gruppo che fa capo a Roseto, di celebrare il congresso il 6 novembre. Noi sappiamo che questa richiesta è partita da Giovanni Cusano. Lo stesso Cusano negli ultimi giorni è diventato una sorta di caso politico all'interno del PD, ma è possibile che questo partito prima si fossilizzi su Feole, poi su Cusano? Con tutto il rispetto per i due esponenti dei democratici, ma non c'è altro anche in questo partito. No, il partito non si fossilizza su Cusano, su Feole, e c'è altro in questo partito. Il problema è che quello che c'è non emerge, non riesce ad emergere perché c'è un tappo che ostacola la crescita della nuova classe dirigente. E dico questo perché io sono rimasto sconcertato dalle dichiarazioni del candidato Roseto, che non può dire ai giovani democratici di vergognarsi. Perché un candidato che si pone come il candidato renziano, come il candidato dell'innovazione, come quello che va sul rinnovamento, è evidente che non può criticare i giovani democratici, che sono forse una delle poche realtà felici in questa provincia. Mentre condivido e ho condiviso la candidatura di Raffaele per i motivi opposti, abbiamo pensato che la candidatura di Raffaele potesse rappresentare al meglio il progetto di rilancio del Partito Democratico. Un progetto che mette alla guida di questo partito gli amministratori, che rimette alla guida una classe dirigente nuova e Raffaele è un sindaco che ha ben operato, è un sindaco che è andato a una candidatura, ha affrontato una candidatura difficile senza avere un supporto del partito che in quel momento storico era sotto il commissariamento regionale e che quindi poteva dimostrare con i fatti e non con le parole quello che significa vincere delle battaglie politiche e amministrative partendo effettivamente dai territori. Contro ogni logica di cooptazione romana o napoletana, è una candidatura che nasce in modo trasversale rispetto alle aree politiche di riferimento. È evidente che noi facciamo il congresso del Partito Democratico e che quindi la collocazione all'interno di uno delle correnti dei candidati della Secretaria Nazionale non è una cosa indifferente, cioè non è secondaria rispetto al congresso provinciale. Ma è anche evidente che questo tipo di dibattito ha un senso in una provincia in cui c'è uno stato di normalità della vita politica di un partito. In provincia di Caserta purtroppo non siamo in condizioni di normalità ormai da qualche anno. Il partito Medici-Caserta non è agibile e quindi la valutazione che è stata fatta con il gruppo dei giovani democratici, con i giovani amministratori e con chi si è aggregato a questo tipo di proposta era quella di mettere al centro la provincia di Caserta, al di là delle divisioni rispetto alle dinamiche nazionali, ma di cercare di creare un quadro quanto più condiviso possibile, quanto più ampio possibile rispetto a una candidatura simbolo. Questo perché? Perché fin quando questo partito non capisce che il governo interno non è come quello di un consiglio comunale dove ci deve essere una maggioranza e un'opposizione, ma è qualcosa di diverso. È un partito che dovrebbe essere governato con il 70, con l'80% per cercare di risollevarsi da una condizione di quasi anonimato in provincia di Caserta. Lei ha lavorato proprio in questa direzione mesi fa. Le si potrebbe però eccepire che forse non ha coinvolto tutte le anime del partito. Cioè il suo approccio è stato un approccio a 360 gradi o pregiudizialmente ha escluso qualche esponente importante del partito? No, io capisco la domanda ma non si è voluto escludere nessuno. Non si è voluto escludere nessuno e invito i big di questo partito a smentirmi rispetto a queste affermazioni. Perché io, insieme al gruppo dei Gioi Democratici, abbiamo chiesto il giorno dopo la direzione provinciale, che certamente non è stata una direzione che ha brillato per interventi politici, ma è stata una direzione che, come spesso succede in questo partito, si è divisa rispetto alle nomine in commissione di garanzie e a questioni burocratiche interne a un partito. Abbiamo chiesto a tutto il partito di discutere in modo aperto in un'assemblea e l'abbiamo fatto apposta il giorno dopo la direzione, perché in direzione poteva essere quasi strumentalizzata la cosa. La direzione è comunque un organismo del partito riconosciuto per il quale si può deliberare e non ci può essere casomai una discussione serena, aperta. Abbiamo invitato tutti a partecipare, Caputo, Graziano, Picierno, altri consigli provinciali, tutti a partecipare per cercare di condividere insieme una proposta. Anche perché se l'idea di tutti manifestata sui giornali, forse non proprio di tutti, perché io ricordo che Nicola Caputo, il consigliere Caputo ha dichiarato proprio a lei di voler votare il sindaco di Piedimonte Cappello, è evidente che il tema del rinnovamento era della maggior parte del partito, su cui poi è ritornata anche, ha rivisto anche la posizione del consigliere regionale. A quella riunione non ha partecipato tutto il partito, non tutti quelli che sono stati contattati hanno pensato che era giusto fare una discussione aperta e io penso che questo è il problema di questo partito. Proprio rispetto a questa cosa io vorrei cogliere l'occasione per fare un invito a due candidati segretari. Io penso che deve partire da loro un momento di dialogo per superare tutti i cavigli e gli ostacoli burocratici che sono stati messi in campo per la celebrazione del congresso. Io penso che loro debbano dare un segnale forte a tutti gli iscritti del PD di incontrarsi, di parlare, di definire loro una data per il congresso, che certamente non può essere quella di un giorno lavorativo. Lei diceva che i giovani hanno svolto una funzione importantissima in questa fase. Lei è giovane, Raffaele Vitale altrettanto, stessa cosa vale per Peppe Roseto. Non crede però che ci sia il rischio che attraverso facce pulite come le vostre poi alle spalle l'apparato del partito possa in qualche modo pensare ancora di tenere in mano le redini del PD di Caserta. Sinceramente non penso ci sia questo tipo di problema perché io penso che l'apparato come lei lo definisce ha metabolizzato un concetto fondamentale che è quello che in questa provincia ma più in generale in tutta Italia. Se il partito si divide le elezioni le perde. Quando il partito resta unito le vince. E questa è l'ultima forse occasione che noi abbiamo per dimostrare che effettivamente il partito in provincia di Caserta riesce a risollevarsi una situazione difficile e lo fa con una candidatura ed un gruppo di giovani che sostiene quella candidatura ma anche con un gruppo di dirigenti navigati di questo partito che grazie alla loro esperienza possono portare un contributo serio e importante per questo partito.